Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. Nella puntata del 6 ottobre di Che Tempo che fa, il tavolo ha preso una piega inaspettata con un vivace scambio tra Cristiano Malgioglio e Simona Ventura. Durante la trasmissione, Fabio Fazio ha riaperto il tema delle nozze di Ventura con Giovanni Terzi, avvenute a luglio, domandando agli ospiti chi fosse stato invitato. Mara Maionchi e Max Giusti hanno alzato la mano, mentre Malgioglio ha espresso delusione per il mancato invito. Io non sono stato invitato. Me lo aspettavo da un'amica, ha detto, palesando il suo disappunto. Ventura ha prontamente replicato, ti ho invitato, cri, ma Malgioglio ha smentito, affermando di non aver ricevuto nulla. Simona ha insistito di essere certa dell'invito, ma Cristiano ha ribadito il contrario, facendo emergere una piccola tensione. Diego Abbatantuono ha cercato di calmare gli animi, attribuendo l'accaduto a un errore dello staff, chiudendo l'episodio tra le risate generali.